Ciao ragazzi da 100% Ciacciaro, ci troviamo a commentare un'altra partita di questo campionato altallenante del Frosinone, un 4-4, un paeggio veramente rogambolesco contro la Ternana al Liberale di Terni. Che dire, è stata veramente una partita molto particolare, alla vigilia era una di quelle partite che nell'arco del campionato sono insidiose perché noi sul campo di Terni abbiamo fatto quasi sempre fatica e sono uscite spesso contestazioni da Terni negli ultimi anni e adesso viene fuori questo pareggio assurdo. Frosinone che dimostra tutta la sua discontinuità in campionato, vince con le prime, perde con le ultime, fa questi pareggi così ed è un Frosinone che mentalmente fa tanta fatica perché non si costruisce ma non per forse problemi fisici ma proprio a livello di testa mancano stimoli in certe partite che poi stai lottando per i playoff quindi lo stimolo dovrebbe venire da sé e quindi ti vengono poi fuori questi risultati, anzi è come se accendessi e spegnessi l'interruttore a seconda del momento della partita o a seconda proprio della partita che stai giocando. Frosinone che era riuscito ad andare in vantaggio con Rodien da un'azione di calcio d'angolo, la palla la prende Gatti, la spizza di testa, arriva Rodien che davanti alla porta mette il piedone e manda il pallone in rete. Però la Ternana riesce a pareggiare con un colpo di testa mi sembra di Proietti che tra l'altro da un'azione di calcio d'angolo anche qui la riesce a prendere in un modo assurdo perché è in caduta, lui era indirizzato verso proprio un'altra parte ma la palla riesce a sbattere in un punto della testa non si sa come e va nella direzione della porta difesa da Minelli che si fa battere sul suo palo. lì cambia proprio l'inerzia della partita perché la Ternana è più arrembante, già aveva tenuto più palla però non era stata pericolosissima. costruisce la sua azione con Donnarumma che poi riceve palla e la manda sulla traversa, la palla ritorna indietro e sbatte sul Minelli che subisce il secondo gol. un'altra volta per una leggerezza, anche qui un po' di sfortuna perché gli sbatte addosso però se sul colpo di testa di Donnarumma non poteva fare più di quello perché si era alzato in volo però ovviamente la palla poi si batte sulla traversa e lì ha avuto un po' di sfortuna perché gli è carambolata addosso. però è una partita in cui Minelli non è stato molto sicuro e ne abbiamo risentito però anche proprio l'atteggiamento di squadra è venuto meno. quindi un Frosinone che deve ricaricare e riesce però poi a trovare il pareggio nel finale di primo tempo, dà un'altra azione di calcio d'angolo, stavolta però c'è autogol per la Ternana con Bogdan mi pare, anche qui lui la pende di nuca e la palla finisce dentro. un Frosinone però poi ci prova però non in maniera convinta nel secondo tempo e la Ternana che riesce a portarsi sul 3 a 2 con un tiro dalla prossimità dell'area di rigore che però diciamo è stato lasciato calciare lì Palumbo mi sembra, anche lì Minelli ci va abbastanza leggero sul tuffo e la palla finisce dentro. Frosinone che ha di nuovo la reazione, stavolta Gatti si porta in area di rigore, era già stato fatto il cambio, il doppio cambio con Novakovic e adesso non ricordo chi altro, erano stati messi a posto mi sembra di Canotto e di Rodian, Gatti si porta in area di rigore, riceve un pallone, lo stoppa, lo controlla, si gira e segna un gol un po' alla Daniel Ciofani se fosse stato un po' più lontano però Gatti si è portato al centro dell'area e ha quel modo d'orgoglio che spesso tira fuori però con l'ingresso di Pettinani la Ternana riesce a ribaltarla nuovamente, va 4 a 3, Scimischi è davanti a Pettinani Pettinani lo vuole marcare in maniera molto leggera, infatti fanno sportellate, Scimischi va a terra ma non c'è niente, Pettinani fa un pallonetto a Minelli e segna il 4 a 3, sembra finita poi l'arbitro non fischierà proprio più niente da una parte e dall'altra, in mezzo al campo lascia molto giocare Salvifico per il Frosino è nell'ingresso di Tribuzzi che non è bravo a calciare, non è bravo a crossare però sa procurarsi i rigori già, mi sembra quel cosenza Tribuzzi trova il suo secondo rigore, che poi è trovata la stessa maniera, prova a inserirsi in aria prova a passare, invece trova l'ostacolo del difensore e l'arbitro che è da calciare il rigore lì ho letto anche tante cose, ma che vuoi che rigore sia, ok non sono quei rigori dove il difensore ti entra addosso sul piede però sono quei rigori che poi se non li danno alla tua squadra protesti e se li subisci protesti quindi vabbè, sono quei rigori che ci possono stare, se poi non te li fischiano ti arrabbi Vanno Vagovic che segna all'ultimo quindi, finisce tra le polemiche Lucarelli che segna via e Frosino che porta un punto comunque importante per come si era messa la partita Certo è che siamo proprio discontinui, adesso ci aspettano due partite in casa delle ultime tre, Monza in casa, poi andiamo a Ferrara e poi l'ultima nel Pisa se in casa possiamo fare molto bene, in trasferta anche se comunque Ferrara è un campo abbastanza favorevole tradizionalmente negli ultimi anni, non dobbiamo peccare di presunzione comunque non dobbiamo scendere in campo con una mentalità sbagliata perché alla spalla comunque ancora si sta giocando la salvezza e sugli sconti diretti lì forse siamo un po' più tranquilli per come si è evoluta la stagione Per questo video è tutto, vi iscrivetevi al canale e mettetevi mi piace noi ci vediamo alla prossima, dopo la partita del 25 aprile tra Frosino e Monza Ciao